adesso vi faccio vedere come funziona mux per esempio ecco qui sto generando i coin poi dite che non funziona mux vabbè per certe funzioni non funziona ma per questo si e come dovete fare allora per fare attivare i general coin se dovete cliccare qui su play e per prelevare qui guardate prelevando cosa succede prelevo ecco transazione avvenuta correttamente abbiamo trasferito 1.43 mux coin sul tuo conto non so quando me lo trasferiscono è su paypal questo non lo so ancora non me hanno trasferiti i soldi che sto generando però io intanto faccio facendo ok faccio così ecco e riparte da zero volevo dire questo volevo dire soltanto questo io sto facendo questo e non so quando mi metteranno i mux coin di soldi su paypal sul mio conto paypal perché si è vero che dal 3 aprile non funziona perché non hanno trovato ancora delle aziende ecco però se scrivete a mux penso che vi risponderanno non lo so io non lo scritto non gli ho scritto quindi non lo so però vedo che qualcosa funziona per esempio per invitare ref vado su programma di affiliazione ci clicco io uso maxstone come browser come vedete poi qui c'è il mio link ref clicco su copia mi fa bravo testo correttamente copiato faccio ok come vedete certe funzioni funzionano queste funzioni qua altre no ma queste sì quindi non dite non fate tutto di del buon fascio qualcosa funziona e poi abbiate pazienza intanto accumulata poi prelevate poi staremo a vedere quando riattivano tutto che succede ecco e venite quando vi registrate su sul mio link ref su mux venite pure a visitare il mio profilo valentina ripanti e su dashboard si può vedere gli affigliati quanti sono e le visite che fate ecco io c'ho 42 affiliati ecco poi andando giù andando giù come vedete c'è pure una chat che non funziona lasciate per il per il momento e qui vedete la scadenza che avete totte giorni di scadenza perché per raggiungere l'obiettivo insomma obiettivi e scadenze io sono arrivata 3805 giorni rimanenti rimasti insomma e qui vedete i ref i vostri ref ecco su dashboard questi sono i miei di ref ecco alcuni dei 42 e questo è tutto